Calabria 7 incontra oggi alla mezzia terme Domenico Furgioe, l'unico parlamentare calabrese della Lega. Onorevole, buongiorno. Partiamo da una visione classica della situazione. La fase politica nazionale che vi vede forza di governo assieme al Movimento 5 Stelle e quella regionale con un centrosinistra abbastanza debole creano tutti i presupposti per un vostro ingresso a pieno titolo nella competizione delle prossime regionali. Come state preparando l'onda d'urto sull'elettorato? Buongiorno. Indipendentemente da quello che ci raccontano i sondaggi ai quali noi non guardiamo quotidianamente e indipendentemente da quello che oggi potrebbe essere il nostro posizionamento come forza di governo è chiaro che noi a questo obiettivo ci stiamo lavorando da tempo. Abbiamo voglia di entrare nelle istituzioni regionali quelli che hanno maggiore competenza su alcune materie molto delicate e di diretta e stretta competenza come per esempio il settore idrogeologico, quello che vede la Calabria sempre più dissestata. Noi ci stiamo preparando con iniziative come quelle di questa mattina, un'accademia di formazione federale utile per formare i giovani, per formare persone che hanno buona volontà e buoni propositi per affacciarsi al mondo della politica. Tra i partiti della coalizione Forza Italia ha già prenotato l'espressione del candidato governatore. Perché la Lega in qualità di primo partito ha preferito derogare? Non è una deroga. Ogni partito che faccia parte del centro-sinistra, che faccia parte del centro-destra ha il diritto di esprimere una propria candidatura per soddisfare le volontà della propria base elettorale. Noi anziché fare dei nomi preferiamo fare dei programmi, preferiamo partire da una consapevolezza che si può partire dall'ambito del centro-destra, di un centro-destra unito che sta facendo bene nel resto delle regioni d'Italia, veniamo da delle vittorie molto convincenti e quindi il popolo vuole questo tipo di schema ma lo facciamo con la consapevolezza che si debba partire da programmi che guardino ai territori e che vengano discussi e che poi conducano ad una scelta condivisa. Al vostro interno in Calabria, Reggio in particolare, esiste un fronte dissidente rispetto alla sua conduzione segretariale lei ha già risposto di non considerare le critiche di persone neppure iscritte al partito ma il vicepresidente della commissione antimafia Galizia è disponibile, si dice disponibile ad un commissariamento ci sono le premesse per ricompattarsi o preferisce andare allo scontro? Allora, non possiamo prendere in considerazione tutto quello che è detto da persone che non hanno neanche la tessera in tasca Galizia è componente di una commissione in Regione Lombardia, ha dato una disponibilità ma la Lega è territoriale ed ha sempre garantito una rappresentanza del proprio territorio quindi la Calabria è governata dai calabresi come la Lombardia è governata dai Lombardi Lo spirito di iniziativa non le fa certo difetto, dopo anche autoproduzioni televisive ha aperto una scuola di politica che ci ospita in questo momento, cosa fate di preciso e a chi è rivolta? Questa è un'accademia di formazione federale e del partito, non ho alcun merito di aver aperto l'accademia di formazione ma soltanto quello di averla voluta portare in Calabria Il nostro obiettivo è quello di dare delle possibilità, quello di portare in politica qualcosa di concreto e qualcosa di serio partendo dalla formazione, il migliore investimento che si possa fare e ne approfitto di questa intervista per lanciare un messaggio a tutti i calabresi di buoni propositi e di buona volontà che vogliono crescere per affrontare la politica o per impegnarsi in politica la cosa che noi offriamo è quella della formazione sottosegretari, viceministri, ministri, deputati, senatori passano da questo luogo vengono in Calabria per formare una schiera di giovani, di meno giovani, di amministratori che hanno voglia di impegnarsi e soprattutto di investire nella propria formazione Un imprenditore del settore edile come lei schierato saldamente con Saldino non può che essere un pieno sostenitore della TAV ma pensando a quei lavori con la mente dell'amministratore nazionale le viene ogni tanto un sussulto riflettendo sulle condizioni dei sistemi di trasporto invece nella sua, nella nostra Calabria? Beh certo, abbiamo ereditato una situazione disastrosa e non c'era la Lega a governare al Sud io sono per gli investimenti, sono per liberare economie proprio perché vengo da quel mondo sono consapevole che il mondo delle edilizie è capace di liberare 18 e di muovere 18 comparti un evento che potrebbe dare grande, grande rilancio è quello della TAV ma non dimentichiamo il Sud per il Sud ci sono 9 miliardi di investimento di cui nessuno parla da parte di Ferrovie dello Stato proprio per la Calabria in legge finanziaria abbiamo destinato 35 milioni di euro per superare la problematica della continuità territoriale per quanto riguarda gli aeroporti quindi finanziamenti per gli aeroporti calabresi e in più stiamo destinando molte risorse per quelli che sono gli enti che sono stati tagliati o meglio che dovevano essere tagliati invece sono stati semplicemente falcidiati o resi poco produttivi che sono le province gli enti più prossimi al cittadino ai quali noi abbiamo dato 250 milioni di euro all'anno fino al 2030 questo in cosa si traduce? faccio un esempio per la provincia di Catanzaro per esempio la provincia di Catanzaro con il vecchio governo aveva 450 mila euro di risorse destinate in un anno quest'anno avrà 2,5 milioni di euro non è la panacea risolutiva di quelle che sono le problematiche di un ente che si dovrebbe occupare di due asset strategici che sono le scuole secondarie e le strade però è un inizio noi vogliamo liberare economia essenzialmente abbiamo deciso di scegliere fra i gilet gialli e i gilet arancioni abbiamo scelto i gilet arancioni c'è nel suo cassetto personale di politico di Calabrese un sogno particolare, un progetto che si impegna a cui sta già lavorando i progetti sono tanti riguardano questo territorio e su questo ci sto lavorando da parecchio tempo e per Scaramanzia non ne parlo però un obiettivo sicuramente è quello di portare sul nostro territorio la consapevolezza che la Calabria è un grande popolo fatto di oltre 2 milioni di abitanti con un'estensione territoriale che è ricca di coste è ricca di montagne, tutte le cose che ci siamo sentiti dire da tanto tempo ma che è la verità a questo dobbiamo aggiungere una cosa che i calabresi spesso e volentieri trascurano la consapevolezza e l'orgoglio di essere calabresi un grande popolo quindi stiamo improntando anche in occasioni come queste ma in tutte le occasioni che noi sviluppiamo in Calabria la possibilità di portare i nostri simboli partendo dalle nostre bandiere partendo dalla consapevolezza delle nostre storie partendo dal fatto che siamo un popolo che non ha nulla da invidiare al resto delle regioni d'Italia e che probabilmente potrebbe accentrare anche la sfida del regionalismo differenziato per tutte le risorse che potrebbe esprimere in ogni occasione non perdiamo mai l'opportunità di dire che la Calabria è storia, cultura e natura grazie a tutti